Sì, come sapete, come sai, rifletto sul linguaggio e sul problema del linguaggio ho tanto tempo, ma da un po' di tempo mi ero posto questo problema del bilinguismo, cioè l'idea che in realtà una forma di bilinguismo, un certo bilinguismo, poi ne parleremo, è costitutivo di ogni intenzione poetica, in particolare per esempio della tradizione della poesia italiana, ma forse di ogni atto linguistico, cioè non esiste una monolingua, non esiste una lingua unica, non soltanto ci sono, come sappiamo, tante lingue, ma anche all'interno di ogni lingua vi è per così dire un bilinguismo. Ecco, quindi l'idea era di questo bilinguismo interno. Naturalmente in Italia il caso macroscopico è il rapporto lingua-dialetto, nel senso che forse è qualcosa che distingue proprio la tradizione letteraria italiana, la tradizione culturale italiana è questa fortissima presenza del dialetto, questa lingua che storicamente letteraria è rimasta fissa, e soprattutto questo fatto che accanto, una cosa che mi colpiva molto, accanto alla grande tradizione poetica del Novecento italiano, ci sono stati almeno due grandi generazioni di poeti, da Montale a Caproni, a Sereni, a Penna, però accanto a questa grande fioritura di poesia in lingua, c'è meno nota, anche se nota, solo che spesso circola meno con editori minori, un'altrettanto grande fioritura di poesia in dialetto, e sono questi poeti, che siano Marino, Pedretti, Loi, Scataglini, Zanzotto, Passolini, anche quelli che scrivono in due lingue, è una tradizione altrettanto grande. ...pratiche statali, l'italiano è diventato una lingua unitaria, che comprende tutta l'Italia, per ragioni puramente letterarie, ripeto, e questo prestigio letterario è nato a Firenze, in una situazione storica naturalmente molto diversa dall'attuale. I tre grandi padri dell'italiano, cioè Dante, Petrarca e Boccaccio, sono imposti al resto della popolazione italiana per ragioni di prestigio letterarie. Cioè, praticamente in questo momento abbiamo un italiano che è strettamente unitario dal punto di vista linguistico, cioè un giornale di Milano usa più o meno lo stesso italiano che un giornale di Palermo. Quando gli italiani aprono bocca e parlano, parlano ognuno un italiano particolare, regionale, cittadino, individuale. Cioè, la coina è dialettizzata, l'italiano è dialettizzato. Certo che sono delle lingue potenziali che non sono arrivate al grado di lingua, perché sono state soppiantate dal prestigio letterario del Fiorentino. Beh, le vestigia effettivamente non sono poi molte, ci sono moltissime parole del lessico italiano che non sono di origine latina, sono di origine germanica, celtica, spagnola, addirittura araba, ma queste sono delle tracce assolutamente superficiali e poco significative. In realtà l'italiano linguisticamente è molto unito, è molto unitario. La sua derivazione del latino è molto precisa, anche perché essendo, appunto, ripeto, una lingua più letteraria che burocratica, comunicativa, eccetera, eccetera, tende a essere molto fissatrice delle proprie istituzioni linguistiche. Grazie a tutti. E quindi l'idea di questa collana, che si chiama Ardilut, riprendendo il simbolo del fiore della pianta dell'Ardilut, che Pasolini aveva preso come simbolo delle sue pubblicazioni in Friulano, e appunto questa collana vorrebbe riproporre questo aspetto fondamentale della poesia italiana, ma non focalizzandosi solo dialetto-lingua, ma su questa idea di un bilinguismo interno ogni lingua, cioè che il dialetto sia il caso per noi più esemplare, più evidente di questo bilinguismo. Sì, Zanzotto, che usa anche lui l'immagine del dialetto come un inconscio della lingua, ricorderai a questa immagine così bella, paragona il dialetto a un momento sorgivo del linguaggio, se dice il punto in cui la lingua viene, monta come il latte, questa così bella espressione. E appunto per Zanzotto il dialetto quindi è il momento sorgivo del linguaggio. È chiaro che questo momento sorgivo, l'hai accennato molto bene, non può a sua volta fissarsi, studiarsi in un'altra lingua, perché poi come sai, per esempio, gli studiosi fanno grammatiche dei dialetti, il che è una storia, perché il dialetto, appunto, in fondo io ero partito, e qui bisogna per forza accennarne, all'idea di Dante nel volgario eloquenza, cioè che ci sono due lingue sempre, una che lui chiama il volgare, che è la lingua che impariamo sine omni regola, senza alcuna regola da quelle che ci stanno accanto, e poi c'è una seconda lingua che i latini chiamano grammatica, lui dice, e che è quella che invece studiamo, apprendiamo attraverso un lungo studio, e dice molto bene, questa seconda lingua serve a far sì che la lingua non si alteri, serve a fissare la lingua in una, dice, identità inalterabile, però dice appunto il volgare è la lingua più nobile, perché è quella naturale a tutti i popoli, mentre l'altra è artificiale, no? E poi lui a questo bilinguismo, diciamo proprio costitutivo, ne aggiunge un secondo, che è quello tra volgare municipale e volgare illustre, che è un ulteriore, in fondo ci sono dei bilinguismi, non un bilinguismo, e appunto l'idea che era al base della collana è che oggi l'ipotesi era che si potesse far corrispondere al volgare i dialetti e alla grammatica la lingua nazionale italiana, no? Che in fondo era anche un po' l'ipotesi, lui non la formula mai, da cui era partito Pasolini a Casarza quando era ragazzo, noi sui scritti in friulano hanno un po' questa idea, anche se non la formula mai. Sì, innanzitutto volevo ricordare che questa tematica del rapporto lingua-dialetto è veramente, secondo me, l'idea fondamentale del pensiero di Pasolini, e tutte le altre sono delle manifestazioni eruttive di questo pensiero, tant'è che fino a pochi giorni prima della morte l'ultimo intervento a Lecce è un intervento su questo tema, si chiama vulgare loquio, e lui lì denuncia il genocidio che è avvenuto con la Costituzione della lingua nazionale, eccetera. Ecco, però l'altro problema che invece tu ponevi, che è importantissimo, se il dialetto è questo momento sorgivo della lingua, è chiaro che non può poi lui stesso fissarsi in un'identità. Nel libro di Zanzotto, su Zanzotto, che per la prima volta raccoglie tutte le poesie in dialetto, abbiamo ritrovato, cosa che non era stata mai inclusa nelle edizioni delle poesie complete, una ecologa che lui scrive in dialetto sulla morte del dialetto, e a un certo punto Zanzotto, dopo aver detto che tutto quello che ha scritto in italiano è fasullo, dopo aver fatto questa dichiarazione, si rivolge anche al dialetto e dice ma anche tu, dialetto, non sei la mia vera lingua. Chiede o mia vera lingua dove sei. Perché questo bilinguismo di cui parliamo, in questo momento sorgivo, non può poi, l'hai detto molto bene, fissarsi a sua volta in una lingua. Quindi il dialetto agisce finché resta in questa dialettica interna alla lingua. Se diventa anche lei una lingua accanto all'altra, allora siamo in un bilinguismo esteriore, che non è più questo bilinguismo interno di cui è messo a cuore, che è il fatto che in ogni espressione poetica ci sia un bilinguismo interno. Che appunto è diverso, se il dialetto diventa una tradizione poetica fissata, allora sono due lingue grammaticali. Però questi poeti dialettali lo sanno benissimo. Così come Dante sapeva che il dialetto non può mai stare, dice Fermo, cioè cambia continuamente. E così appunto il dialetto è qualcosa di vivo, di continuamente in fieri. Una cosa che mi ha molto colpito, questi grandi poeti che sono rivolti al dialetto, come Zanzotto, ma anche Cecchinelle, Fernando Bandini, che è un poeta straordinario che scrive anche in latino. Negli anni Ottanta, quando cominciano a riflettere, scrivere qualcosa, parlano del dialetto come una lingua morta. Dicono che il dialetto è una lingua morta. Cosa strana, perché poi invece si è visto che non era così, che invece il dialetto ha avuto... appunto perché continua a vivere trasformandosi. Si contamina. Non è vero che sia morto il dialetto, si contamina con la lingua. E se è un momento sorgivo interno alla lingua, è giusto che non resti fissato nella sua identità. Quindi non si tratta di... E quando poi si parla di una lingua morta, come fanno Zanzotto, mi viene sempre in mente quello che diceva Pascoli, che il poeta scrive sempre in una lingua morta. Però siccome Pascoli aggiunge è una lingua morta che però si usa per dar maggior vita al pensiero, è proprio così. E quindi questo momento sorgivo può apparire anche come una lingua morta, proprio perché non deve fissarsi, no? Perché in realtà poi... È come se la lingua trascinasse sempre dietro se stesso la propria morte e il proprio passato, no? Hai usato l'immagine che usa anche Zanzotto in questa cosa, dice in questo dialetto io inciampo e balbetto e minceppo, no? Perché è così. Appunto, se questo momento sorgivo è per così dire costitutivo della lingua, quindi se chiamiamo dialetto, non il dialetto in senso stretto, che certo non è la manifestazione esemplare, diciamo, però se non chiamiamo dialetto, quello che si usa chiamare in senso stretto, con la sua identità a sua volta, ma è questo momento sorgivo all'interno della lingua, è chiaro che in un certo senso c'è sempre in ogni atto di parola. E naturalmente è anche vero, no? Quella è l'ossessione di Pasolini. Pasolini pensava che però, a partire da un certo punto in Italia, delle forze politiche ed economiche avevano agito nel senso di cambiare questo rapporto, di costituire questa che lui chiamava la lingua nazionale, che gli faceva orrore e che pensava rappresentarsi un genocidio delle lingue. Quindi questo è anche vero, che possono agire delle forze che tendono a rafforzare il polo grammaticale. Beh, figurati, non solo in Italia, ma in tanti altri paesi, i cosiddetti dialetti sono stati proprio fortemente repressi, non solo in Francia, ma per esempio adesso leggevo delle cose sui berberi, per esempio in Marocco, una delle prime cose che hanno fatto in vari secoli era di cercare di spegnere questa lingua berbara, che però invece adesso si può anche insegnare nelle scuole. Il punto appunto non è quello che si insegni nelle scuole, perché poi se si insegna nelle scuole diventa appunto una lingua grammaticale a sua volta. Il problema appunto è che è una dialettica difficile che deve restare presente nella lingua, di cui i poeti in un certo senso sono propri custodi, che però non i poeti in senso stretto, chiunque abbia cuore di esprimersi nella lingua deve confrontarsi con questo momento poetico. Allora, poeta è colui che riesce a sostare in questo spazio, in questo senso naturalmente il poeta è la figura esemplare, l'ho appena detto, il poeta che scrive poesie, è poeta in questo senso il pittore, è poeta in questo senso anche una persona che non è necessariamente impegnata ad un'attività artistica, ma non ha paura di farsi balbuziente, non si difende da questa balbuzia, mettiamola così, e anzi riesce a ricavare qualche cosa di vitale da questo momento. Messa in questo senso è un'opportunità che c'è per tutti, questa della balbuzia, però la balbuzia viene giustamente curata, perché quando è un problema è un problema, ma da un altro punto di vista curare la balbuzia vuol dire limitare questo spazio di vita incontrollata e tuttavia fertile, brulicante, pericoloso forse anche, però allora mi sembra importante ribadire su questa definizione più ampia di poeta. Chi è un poeta allora? Che cosa vuol dire fare poesia? Non necessariamente se sei poeta che lavori con le parole, ma poeta come qualcuno che è in grado di operare in questo campo. Sì, forse invece che di poeta si vuole parlare di un momento poetico. Ecco, in ogni vero atto di parola c'è in qualche modo e ci deve essere un momento poetico. E quindi non soltanto in chi scrive poesia, ma tra l'altro anche in chi scrive per esempio prosa o in chi scrive saggistica filosofica, se non si impegna, se non si incontra, se non si urta a questo momento poetico, non funziona anche il pensiero. D'altra parte appunto è sempre importante, l'ha accennato prima, questi due momenti, per esempio la dialettica, dialetto-lingua, in un certo senso è un terzo tra i due quello che avviene. E per questo a me mi sta molto a cuore in questa collana, ma altrove, anche altrove, l'idea del testo a fronte. I poeti dialettali in genere si traducono loro stessi, e quindi poi le loro poesie si traducono con il testo a fronte, si pubblicano con il testo a fronte. Io credo che, c'è proprio un'esperienza nel leggere, chi, per esempio io non posso sapere tutti i dialetti che pubblicherò, chi non conosce bene il dialetto deve muoversi in un andirivieni tra la pagina in dialetto, tra il testo in dialetto e il testo in lingua. E questo andirivieni mi fa, a un certo punto mi è sembrato di capire che è fondamentale perché è il giusto movimento che occorrebbe fare ogni volta che si legge, perché la poesia non sta né da una parte né dall'altra, ma sta per così dire in mezzo, in questo movimento, nella pagina bianca. Appunto, in questi casi, non ci sottraiamo all'esperienza di questa scissione, di fatto che questa lingua sia divisa in due, per esempio. Una cosa che mi ha sempre sorpreso quando studiavo per Homo Sacher l'archeologia della parola vita, è che la parola vita, nella nostra tradizione, non viene mai definita, ma viene sempre divisa attraverso una serie di scissioni, per esempio vita vegetativa, vita di relazione, vita sensibile, vita intellettuale, vita corporea, eccetera. Mi sembra che con la lingua avvenga la stessa cosa. La lingua è una cosa che nessuno è stato mai in grado di definire, e su che cosa sia una lingua effettivamente nessuno è stato in grado di definire, se non nel senso della grammatica. Però, appunto, la lingua è una cosa che pur non essendo definita è sempre percorsa da una serie di scissioni. E appunto, è una lettura vera di un autore, di un testo, è come se ritrovasse nel testo che sta leggendo questa scissione, non si sottrae, non si illudesse di avere un senso, una sfera semantica da capire immediatamente, no? è come se ci fosse un lavoro quasi di sosta in queste scissioni, di traduzione da un polo all'altro di queste scissioni. E quindi, in questo senso, leggere è, sì, dimorare in queste scissioni. Poi, che cosa appare in queste scissioni? Appunto, ciò che è rimasto non detto, l'impensato, o in un poeta, per quello che concerne la poesia, forse si potrebbe, mi verrebbe da usare quello che appare tra il dialetto e la lingua grammaticale e la voce. Questo, in fondo, Pasolini, spesso negli ultimi testi sulla lingua, diceva proprio tra l'opposizione lingua-parola, no? Attraverso, per tutto la grande scissione attraverso cui la linguistica comprende la lingua, per esempio, quella lingua-parola. Ma gli antichi la conoscevano, non è una cosa inventata da Sussure, gli antichi la conoscevano come scissione tra i nomi e il discorso, platonici onoma e logos. Ed è vero che noi abbiamo l'impressione che la lingua sia costituita prima da una serie di nomi, un lessico con i quali non possiamo dire nulla e un discorso che poi si fa a partire da questo. E Pasolini, a un certo punto, direi che questa distinzione tra lingua e parola non è vera fino in fondo e lui diceva che si dovrebbe pensare a un momento puramente orale della lingua che mette in questione, che revoca in questione questa scissione. E che cosa appare in questo momento puramente orale? Un nome possibile per chiamare quello che appare è la voce, la voce in quanto questa cosa che il linguaggio sembra ogni volta catturare ma che in realtà non riesce mai a catturare. Sì, una delle ragioni per cui mi interessava molto la poesia dialettale quindi il rapporto lingua-dialetto era appunto questo che forse in questa tensione fra i due fra il dialetto e la lingua potesse apparire qualcosa come una voce e appunto sia Pasolini che Zazzotto attraverso questa idea di un momento orale puramente orale sembrano pensare qualcosa del genere. Però appunto se vogliamo poi approfondire questo problema della voce in fondo la definizione più antica che è la nostra tradizione filosofica dato del linguaggio è voce articolata foné enartros voce articolata e in fondo la ripetiamo sempre perché perfino a scuola adesso quando si è all'inizio dice beh la grammatica studia appunto la voce articolata e che cos'è questa articolazione della voce? Cioè quando poi si va a vedere il primo che riflette su questo è Aristotele che cosa avviene che cosa consiste questa articolazione si vede che l'articolazione non è altro che la scrittura il fatto che questa voce viene scritta infatti gli antichi grammati dicevano voce articolata significa voce scrivibile mentre la voce degli animali non è scrivibile la voce umana è articolata perché è scrivibile qui si vede bene come appunto questa idea della lingua è una costruzione storica che la riflessione grammaticale e filosofica sulla lingua hanno fatto non è una realtà non è la voce cioè la voce viene in questo modo per così dire catturata e quindi in questa definizione della voce articolata da una parte c'è una definizione di come poi dice articolata quindi diventa significante attraverso le lettere diventa significante ma l'altra cosa che avviene in questa definizione è che in questo modo il linguaggio viene innestato su questo dato naturale che è la voce chiamiamola anche la voce animale come se il linguaggio fosse veramente un'articolazione di una voce animale dell'uomo che l'uomo non ha l'uomo non ha una voce animale quindi c'è una specie di operazione che è stata condotta in questa idea di un'articolazione della lingua che da una parte ci fa concepire la lingua come lingua significante articolata grammatizzata perché la grammatica poi non è che altro che la scienza della scrittura grammata sono le lettere ma dall'altra serve a far sì che il linguaggio si innesti su un dato naturale che è la fonella voce e anche quindi noi diamo per scontato in questo modo che il nostro linguaggio si innesta ma dove si innesta dove va a innestarsi quando prende delle parti dell'apparato boccale che non erano destinate a parlare fanno parte del genere della parte alimentare erano degli organi destinati all'alimentazione che l'uomo stravolge verso il linguaggio quindi adesso se vogliamo appunto approfondire questo problema appunto in fondo in questo problema della collana del rapporto dialetto lingua tra cui emerge una voce in fondo vengono messe in questione anche delle grosse cose non soltanto l'interessantissimo problema della poesia del bilinguismo interno alla poesia ma anche questo grande tema ma allora che cosa avviene quando parliamo dov'è la voce che cos'è il linguaggio io credo ho sempre pensato che una buona definizione della poesia ma anche della parola filosofica è di una parola che per dirla come hai detto si accorge della parola stessa mentre sta parlando cioè che mentre parla non si dimentica che sta parlando mentre parla cerca di dire per così dire questa cosa impossibile dire la lingua stessa però è un po' questo credo la poesia non si dimenticano della lingua non si dimenticano che stanno parlando non si dimenticano di tutto quello che accade per questo in questa ecloga che abbiamo pubblicato all'inizio lo ridice con ancora maggior forza cioè anche tu che sei pure il momento sorgivo della lingua in cui il latte di Eva in cui la lingua monta come il latte però nemmeno tu sei la mia vera lingua è un po' tutto quello che abbiamo detto tante volte cioè il bilinguismo è tra le due lingue che sta la vera lingua e quindi è una lingua assente avrebbe detto Mallarmeno una lingua che manca e Pugli dice appunto il titolo che abbiamo preso per il libro viene da lui stesso dice la lingua la poesia non è in nessuna lingua in nessun luogo ma questa cosa appunto ci hai insistito molto tu giustamente qui la poesia non significa la poesia scritta dai poeti pubblicata nei libri significa il momento poetico del linguaggio e quella non è nessuna lingua tra l'altro una cosa che secondo me è importante cioè dovremmo per esempio quando leggiamo le poesie di Loi Canti di Lopardi o le poesie di Caproni ecco non dobbiamo cadere nell'idea che queste poesie sono scritte in italiano non è vero non è vero queste poesie sono scritte in una lingua che sta dentro l'italiano come un'altra lingua ed è nella dialettica tra queste lingue che loro sono poeti sono stati poeti proprio perché sono riusciti a scrivere con questo movimento che noi percepiamo benissimo perché vediamo benissimo che la lingua della poesia non è la lingua della comunicazione dell'informazione e appunto questo terzo nemmeno bisogna cadere nella retorica dell'indicibile dell'ineffabile anche di mistico no secondo me è qualcosa di molto concreto che però possiamo cogliere solo attraverso la relazione tra questi due perché appunto non dobbiamo fissarlo in un'identità quando Dante dice la lingua la grammatica si fa per fissare in un'inalterabile identità questa cosa che sempre si muove non è quindi un che divago è qualcosa che possiamo percepire mettendo in rapporto in questo strano rapporto che è conflittuale di amore di odio perché non è solo di conflitto i poeti che scrivono il dialetto amano anche l'italiano e viceversa quindi è un rapporto complesso ed è qualcosa che noi afferriamo attraverso questo conflitto questo rapporto di questa continua scissione e riunione e c'è un titolo di un poeta dialettale straordinario che è Cecchinelle non so se tu lo conosci Cecchinelle è un poeta che scrive sì assolutamente sì sì è stato anche pubblicato De Naudi quindi non lo facciamo nella collana perché è già noto Cecchinelle ha intitolato una sua raccolta Tai e Duntura che significano taglio e riunione come se la lingua scrivere in dialetto significasse ogni volta tagliare fare una cessura e però poi ricucire Tai e Duntura taglio e sutura taglio e sutura taglio e sutura e lui una volta parlando del dialetto che chiama anche lingua della malura e questa lingua della malura è appunto è così c'è il rapporto tra i poeti in dialetto tra l'altro non scrivono oggi per i dialettofoni è falso non è vero scrivono per essere letti da quelli dagli italianofoni cosiddetti che poi non si sa cos'è un italianofono perché noi siamo italianofoni ma ognuno parla in un modo diverso e appunto quindi questa terza cosa non è che non esiste la vediamo molto concretamente ma siccome non deve avere un'identità grammaticale nella lingua non possiamo che cogliere mettendo in relazione in tensione due elementi però linguistici concreti come sarebbero per esempio se vogliamo usare le parole di Sussure la langa e la parola se le mettiamo in tensione invece di pensare che la parola sia un'applicazione di una cosa che si chiama lingua che non si sa dove stanno se poi invece la parola lavora contro la lingua e la lingua resiste reagisce alla parola e questa è una cosa concreta è il fenomeno della parola è la vera parola è il momento vero che abbiamo chiamato poetico della parola questo è anche un gesto politico possiamo in un senso non banale di politico lavorare per esitare in questa voce è anche un gesto a suo modo politico forse uno dei pochi che ci sono rimasti non a suo modo proprio essenzialmente politico cioè un lavoro che in questo modo per esempio destituisce mette in questione la lingua grammaticale è un atto politico fortissimo perché questo è sicuro che è sulla lingua grammaticale che per secoli si è fondato la struttura diciamo del potere occidentale direi che se le nostre voci ci sono riuscite possiamo essere soddisfatti almeno in qualche misura in che misura ci saremo riusciti non so lo sentiremo quando ascolteremo mi sembra che ci sia una forte analogia tra quello che abbiamo detto prima e questo lì appunto nell'istituzionalizzare la filosofia come una certa disciplina accademia identificabile viene appunto grammaticalizzato qualcosa e di nuovo noi dobbiamo invece parlare in dialetto dobbiamo parlare in dialetto nella filosofia come poeti dobbiamo cercare di parlare in dialetto il possibile cioè rendersi la vita possibile è veramente lo scopo del pensiero sì l'italiano va cambiando nel senso che si sta facendo più veramente unitario le ripeto fino a 15-20 anni fa 30 anni fa non si poteva parlare di un italiano veramente unitario si può cominciare a parlare adesso anche per merito della televisione dei giornali oppure della vita statale che è infinitamente più unita che molti anni fa le infrastrutture sono enormemente accresciute ma il centro linguistico dell'italiano però si deve dire non è più letterario e non è più Firenze ma è tecnico o tecnologico ed è Milano cioè per esempio l'italiano è unito secondo me soprattutto dal linguaggio tecnico cioè mettiamo la parola frigorifero è una lingua che tutti gli italiani adoperano dalla Massaia di Milano alla Massaia di Palermo tutte usano la parola frigorifero cioè le parole tecniche sono una specie di cemento non so come dire di patina che sta livellando e unificando tutto l'italiano non è né migliore né peggiore questa è la realtà io tendenzialmente certo tendo ad amare di più una alla guida di una lingua nazionale una lingua letteraria ma se questa lingua invece che sia letteraria e tecnologica non posso far altro che prenderne atto grazie a tutti